È stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Valentini la seconda edizione di Expo Turismo Gay, la prima fiera italiana del turismo gay, lesbo, bisex e trans che si svolgerà a Bergamo in occasione di No Frills il 28 e il 29 settembre. La provincia di Roma partecipa alla fiera attraverso un progetto mirato a promuovere il turismo nel territorio e favorire scambi commerciali tra tour operator gay friendly attraverso un itinerario organizzato in collaborazione con Enit e con l'Associazione Italiana del Turismo Gay e Lesbo per un gruppo di buyer di Expo Turismo Gay. Il turismo gay è una realtà consolidata nel settore e con un trend in costante crescita e per questo crediamo sia importante promuovere un'iniziativa che consenta ad un gruppo di buyer specializzati di scoprire il nostro territorio, ha dichiarato l'assessore al turismo di Palazzo Valentini, Patrizia Prestipino. Questa iniziativa significa ridare agli agenti di viaggio un ruolo sul mercato in grado di soddisfare l'esigenza di questo target che in Italia ha un volume di affari stimato in 3,2 miliardi di euro, ha aggiunto Alessio Virgili, presidente dell'Associazione Italiana del Turismo Gay e Lesbo. Nell'ambito della conferenza stampa, Paolo Bertagni, presidente No Frills e l'Expo Turismo Gay, ha annunciato che nel giugno del 2013 è in programma un Expo Turismo Gay aperto al pubblico che sarà ospitato dal Gay Village di Roma. Inoltre, ha aggiunto Bertagni, Roma si è candidata per essere la sede della Global Convention International Gay and Lesbian Travel Association che si terrà nel 2016. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, l'Expo Turismo Gay torna dunque a Bergamo, ancora priva però del patrocino del Ministero degli Affari Regionali, Turismo e Sport. A distanza di otto mesi dalla nostra richiesta di patrocino, il Ministero ancora non ha dato risposta in merito, ha dichiarato Virgili. Il grande assente di questo paese, che di solo turismo potrebbe vivere, è proprio una politica nazionale di rilancio strategico di questo comparto che dà da vivere a migliaia di persone. Basta dare uno sguardo ai numeri per capire le potenzialità di un settore, come quello del turismo gay, che nell'USA genera un volume di affari di 65 miliardi di dollari l'anno. L'appuntamento con l'Expo 2012 è per il 28 settembre a Bergamo.